Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su All You Can Italy. Oggi impariamo come descrivere una persona in lingua italiana. Impareremo tantissimi vocaboli utili. E questo è un video che va bene per qualsiasi livello. Infatti imparerai cose semplici, ma tante parole che vanno bene anche per un livello avanzato. Quindi resta con noi e impara come descrivere una persona in lingua italiana. Noi te lo insegniamo in modo semplice e divertente. Sei su All You Can Italy e qui impariamo a parlare la lingua italiana. Hai voglia? Iniziamo allora con tante parole che riguardano il corpo e la persona. Può sempre servire descrivere l'immagine, l'estetica di una persona. Di solito si inizia con l'età, con parole come neonato, lattante, bambino, ragazzino, adolescente, giovane o ragazzo, adulto, anziano, vecchio. Una persona di mezza età si può dire. Quando una persona è un po' avanti con l'età, si può parlare anche di una persona giovanile, se il suo aspetto è ancora giovanile. Parlando della statura, di solito la descriviamo con le parole bassa, media, alta, notevole. Questi sono quattro vocaboli base, ma ci sono molte altre parole che possiamo usare per descrivere la statura di una persona. Possiamo dire ad esempio minuta, piccola, bassa, regolare, una persona di media statura oppure spilungona, quindi anche molto magra e alta, una statura o una persona slanciata oppure una persona di statura alta. Sapete che siamo cresciuti nel corso dei secoli? Eh sì, la statura media, infatti, si alza di anno in anno. Quanto sei alto tu? Fammelo sapere in commento. Descrivimi la tua statura. Io ho una statura media. Sono di statura media. Non sono né bassa né alta. La corporatura o stazza. Tante tante parole. Paffuta, si dice dei bambini di solito, significa in carne. Robusta. Tarchiata, che è un sinonimo di robusta. Tozza, ossia bassa e larga. Grassà. Grossa. Imponente, ossia enorme. Vigorosa. Forte. Muscolosa. Ai tante. O ciccione o obeso, una persona molto molto grassa. Snella. Snella. Sottile e magra. Esile. Smunta. Un po' pallida, malata oltre che magra. Allampanata. Alta. Magra è un po' come curva. Emaciata. Pallida e malata. Scarna e pelle e ossa. Secca. Magra e smilza e mingerlina. Si dice di solito dei bambini molto esili, magri e un po' deboli. Minuta. Bassa. Magra e carina. Fragile. Ossia delicata. Gracile. Poco robusta. Slanciata. Alta. e snella. Anche gracile si usa di solito per descrivere la corporatura dei bambini. Quindi una corporatura magra, poco robusta, fina, fina e piccolina. Io sono di corporatura media. E voi? Beh, descrivetevi se ne avete voglia. Fate attenzione che alcune di queste parole non sono proprio simpatiche. Quindi ciccione o obeso, beh, non lo diremo direttamente alla persona. Uh, come sei ciccione. Non è una cosa carina da dire. E anche pelle e ossa o emaciata o smunta si dice chiaramente parlando con persone che si conoscono bene. Ah, ti vedo un po' smunta. Non stai molto bene. Passiamo al volto. Esistono così tanti volti. Siamo tutti simoli e tutti diversi. Per descrivere un volto usiamo ad esempio la parola ovale, Paffuto, scarno, incavato, lentigginoso, ossuto, largo, tondo, allungato, rugoso, butterato, paonazzo, spigoloso, pieno, affilato, regolare o irregolare, florido, un po' cicciottello, magro, smunto o armonioso. Quando le sue proporzioni sono molto piacevoli da guardare, quindi armonioso. Paonazzo è violaceo, rosso, un po' delle persone che hanno bevuto un po' di alcol di troppo diventano un po' rosse, oppure arrabbiate. La carnagione si divide in tre grandi classi, carnagione chiara, media o scura. Ma per descrivere meglio la carnagione possiamo anche parlare di una carnagione abbronzata, di una carnagione livida, quindi un po' sul verdastro, paonazza, quindi rosso-viola, arrossata o giallognola, che di solito è un po' un segno di cattiva salute. Ma anche carnagione lattea, rossastra, molto chiara o mediamente chiara, leggermente scura o olivastra, anche questo è un po' sul verdognolo. Scura, mulatta e scurissima, nera. Livida viene dal livido, che è una botta. Avete presente? Quando prendiamo una botta si forma un livido, quindi la carnagione livida ha un po' quel colorito. Parlando dell'espressione del volto, invece, abbiamo tantissime espressioni. Spaventata, antipatica, pensierosa, gioiosa, felice, luminosa, gaia, simpatica o addirata, tranquilla, imbronciata, addolorato, vivace, si dice dei bambini, Seria, serena, miacciosa, triste, corruciata, infelice, sorpresa, tesa, impaurita. Le espressioni, chiaramente, descrivono uno stato d'animo, quindi quelle che vedete sono molto spesso anche le parole che descrivono le emozioni, quindi il modo di sentirsi. Molti di questi, quindi, sono degli aggettivi, vengono usati come aggettivi, quindi hai un volto triste, ad esempio. Per quanto riguarda i capelli, la capigliatura o la pettinatura, i capelli di per sé possono essere docili, morbidi, ispidi, duri, arruffati, ruvidi, fini, spessi, puliti, sporchi, ribelli, lanosi, soffici. La capigliatura può essere folta, lunga, ricca, abbondante, con tanti capelli, fluente, se è lunga, rada, sciolta, corta o fitta, quando ci sono tanti, tanti, tanti capelli. E voi che pettinatura o che capigliatura avete? Io ho i capelli lunghi. A seconda dell'aspetto, i capelli possono essere ricci, sciolti, quindi non raccolti, tinti, colorati, crespi, spettinati, arruffati, quindi non pettinati, scomposti, scompigliati, trascurati, lisci, al contrario di ricci, unti, incolti, ondulati, spioventi o dritti. Le acconciature possono essere tantissime, qui vediamo ad esempio un caschetto, l'acconciatura rasta, la frangetta, la permanente, i capelli raccolti, ad esempio con la coda, i capelli a spazzola, corti, corti, i capelli sciolti e i capelli raccolti in uno chignon. La coda si dice anche la coda di cavallo. Non confondete, i capelli sono quelli in testa, abbiamo poi i baffi e i basettoni e la barba. I basettoni collegano i capelli con la barba. Quelle che ci sono in giro per il corpo sono i peli e gli uomini hanno spesso il petto villoso. Il colore dei capelli. Abbiamo capelli biondi, castani, rossi, neri e bianchi. I castani possono essere castano chiaro o castano scuro. I biondi un biondo uniforme, cinerino, fulvo. Oppure un biondo luminoso, opaco, un giallo spento. I capelli neri hanno un, può essere un nero denso, quasi blu, un nero corvino, un nero lucente. I capelli rossi o rossicci, brizzolati che cominciano a incanutire, cioè a diventare bianchi. Pepe e sale. Non è un piatto, sono i capelli neri e bianchi. I capelli grigi, i capelli bianchi e i capelli canuti. Io ho i capelli castani. Quindi, la fronte, come può essere la fronte? Può essere bassa, alta, spaziosa, stempiata, aggrottata, se qualcosa non va bene, grinzuosa, aperta, serena, turbata, rugosa, corrugata, ampia o increspata, sporgente o larga. Increspato, però, è una parola che non si usa spessissimo, ma che si può usare. Turbata è la fronte di qualcuno che ha problemi. Le sopracciglia e le ciglia. Le sopracciglia possono essere folte, rade, ispidi o sottili. Le orecchie possono essere lunghe, corte o arcuate, cioè ad arco. Le orecchie possono essere piccole, sporgenti, a sventola, minuscole, grandi o aderenti. Le orecchie a sventola, si dicono anche le orecchie alla dumbo. Gli zigomi, sporgenti, pronunciati, evidenti, alti, duri o larghi. Le guance, incavate, pallide, con le fossette, paffute, sode, abbronzate, scarne, rosse, scavate, lentigginose, con le lentiggini, oppure tondeggianti. Quindi belle rotonde. Gli occhi, a seconda della forma, possono essere grandi, piccoli, enormi, tondi, sottili, tagliati, a fessura, a mandorla, minuscoli, sgranati o cerchiati. A seconda della posizione, possono essere sporgenti, incavati, infossati, storti o strabici. A seconda del colore, castani, celesti, azzurri, verdi, grigi e scuri. Io ho gli occhi castani, come i capelli. Ma per descriverli, possiamo anche usare parole come occhi brillanti, gonfi, quando abbiamo sonno, vivaci, come quelli di un bimbo, dolci, spenti, un po' tristi, sorridenti, sereni, limpidi e assonnati, espressivi o cupi, furbi, minacciosi, profondi, intelligenti, luminosi e malinconici, truci, occhi cattivi, vispi, gli occhi di un bimbo, languidi, se si è innamorati, penetranti, oppure freddi. Eh sì, perché gli occhi sono lo specchio dell'anima. Il naso può essere regolare, aquilino, schiacciato, prominente, all'insù, piccolo, adunco, quindi a uncino, a patatina, affilato o appuntito, camuso, quindi corto e schiacciato, rincagnato, bitorzoluto o un naso greco, dritto, fino, perfetto. Io ho un po' il naso a patatina, e voi? Che tipo di naso avete? La bocca. La bocca può essere piccola o grande, larga, smisurata, sottile, rotonda, a cuore, sdentata, quindi senza denti, stretta, imbronciata, quando si è tristi o arrabbiati, spalancata o, beh, cucita. Nel senso si dice bocca cucita quando si deve stare zitti e non dire ad altri un segreto. Quindi se dite a qualcuno un segreto, ditegli bocca cucita però, eh? Le labbra possono essere gonfie, tumide, quindi gonfie, carnose, livide, lisce, grosse, secche, rosse, pallide, a cuore, screpolate, sporgenti, truccate, rosee e siliconate, quei labbroni grossi grossi di certe donne che sembrano quasi essere lì lì per esplodere. E voi? Come sono le vostre labbra? Le mie sono lisce, qualche volta un po' screpolate, livide, se fa freddo. I denti possono essere regolari, radi, quando non ci sono tutti, sporchi oppure bianchi, perfetti o cariati, anneriti o ingialliti, se si fuma, da vampiro, aguzzi, piccoli, grandi, brillanti, storti o da coniglio, quindi con gli incisivi davanti, un po' staccati e che guardano verso l'esterno. Io, ad esempio, ho i canini aguzzi, eh sì, un po' da vampiro. Il mento può essere squadrato, sfuggente, aguzzo, prominente o con la fossetta. Sfuggente significa, beh, che manca. A certe persone, infatti, manca il mento. La voce? La voce può essere squillante, stridola, nasale, profonda, cavernosa, fievole, calda, acuta, lamentosa, melodiosa, tonante, gradevole, sommessa, armoniosa e suadente. Una voce suadente è una voce, beh, molto sensuale. E sempre la voce, a seconda del volume, può essere alta, bassa, esile, sommessa, rocca, acuta, grave, forte, prepotente, sonora, tonante o stridola. Il timbro della voce può essere nasale, squillante, acuto, chiaro, gradevole, sgradevole, metallico, la voce è un po' la radio, vibrante, melodiosa e suave. Il tono, che è il modo in cui utilizziamo la voce per parlare, può essere caldo o freddo, quindi distanziato, ironico, scherzoso, onirico, un po' sognante, formale o informale, a seconda della situazione, amorevole, se vogliamo bene a qualcuno, brusco, quando siamo arrabbiati e solenne, ad esempio, quando ci troviamo in una situazione ufficiale. Sì, perché la voce, beh, è un modo, è un elemento importantissimo della comunicazione. Voi che voce avete? Ma oltre alla voce c'è anche il modo di parlare, quindi il modo di scambiarsi le parole. Può essere amichevole o autoritario, minaccioso, volgare, buffo, ridicolo, agitato, concitato, calmo o riflessivo, corretto, cortese, garbato ed elegante, familiare o comprensibile o incomprensibile, lento, veloce, babal, buziente, cordiale o canzonatorio. Tante, tante parole per descrivere il modo di parlare, quindi il modo di comunicare a parole. E il modo di muoversi? Beh, si può essere impacciati, atletici, scoordinati o eleganti, armoniosi nel modo di muoversi o precipitosi, goffi, spavaldi, dinoccolati, quindi poco sciolti nei movimenti. Si può avere un modo distinto di muoversi, un modo lento oppure scattoso e anche un modo agile. E ora vediamo com'è il carattere di una persona. Beh, note positive o aggettivi positivi per il carattere di una persona sono ad esempio affettuoso, espansivo, sensibile, cordiale, gioioso, allegro, entusiasta, ottimista, focoso, volitivo, risoluto, dolce, affabile, generoso, simpatico, umile, educato, buono, mattacchione, giocherellone, vivace, contento, spiritoso, amichevole, amichevole, romantico, studioso, forte, gentile, costante, aperto, sereno, riservato, pacifico, tranquillo, calmo, incerto, instabile, indeciso, incostante, pigro, mite, serio, mogio, malinconico, birichino. Caratteri meno positivi sono ad esempio il carattere pessimista oppure triste, ansioso, irritabile, una persona nervosa o eccitabile, ribelle, presuntuosa, spaccona, una persona capricciosa, invadente, antipatica, noiosa, dispettosa, maleducata, cattiva, violenta, crudele, pazza, rabbiosa, furiosa, chiusa e prepotente. Insomma, vedete, tanti, tanti, tanti aggettivi per descrivere una persona ed il suo carattere. Anche se molto spesso questi aggettivi servono per descrivere come è una persona in quel momento, non solo il suo carattere in generale, ma anche come è stata in una situazione, si è comportata da maleducata, oppure oggi sei veramente cattiva. Questo non significa che sia sempre maleducata e cattiva, ma magari che ha una brutta giornata. Un carattere sereno, oppure una persona che in quel giorno è particolarmente serena. Quindi, aggettivi per descrivere una persona. Le persone sono tutte diverse, qualche volta ci troviamo a doverle descrivere. Se volete la spiegazione di molti di questi vocaboli, potete andare a dare un'occhiata alla live che abbiamo fatto, che dura ben di più di questo video rassuntivo, in cui abbiamo parlato più nel dettaglio dei vari vocaboli che io vi ho presentato in questo video. Quindi, se avete voglia, date uno sguardo, un ascolto alla live in cui abbiamo parlato e anche giocato per descrivere le persone. Sì, abbiamo fatto alcuni giochi online sul mio canale Twitch per descrivere le persone. Abbiamo, ad esempio, giocato ad Indovina Chi, un vecchio gioco che facevo da bambina e con cui gioco ancora molto, molto spesso con i miei figli. Vi lascio anche qui l'indirizzo se volete fare questo gioco online al sito, appunto, Giochi da Tavolo Indovina Chi. Fatemi sapere se conoscevate già questo gioco e se magari ci avete già giocato anche quando eravate bambini. Dopodiché abbiamo giocato anche ad Akinator. Ecco qui, Akinator, la versione italiana, quindi ha questo indirizzo. E Akinator ci ha fatto delle domande per scoprire il personaggio che avevamo in mente. È un gioco carino per ripassare l'italiano e per ripassare i vocaboli che servono per descrivere una persona. Quindi tanti, tanti, tanti vocaboli che abbiamo visto anche oggi. Io vi ringrazio di essere stati con noi. Grazie, 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 grazie di seguire il canale. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi. Dateci un cenno, un segno che vi piacciono i nostri video. Noi vi ringraziamo ancora di essere stati con noi e vi raccomandiamo di seguirci ancora nei prossimi video. Ciao a tutti e alla prossima da All You Can Italy. Grazie. 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 Grazie.